Da oggi con l'app di Udinews TV tutta l'informazione regionale è a portata di mano. Streaming live 24 ore su 24, telegiornali e programmi di prima serata on demand, palinsesti e tutte le notizie aggiornate sull'udinese. Scarica l'app Udinews disponibile per mobile, tablet, Android e iOS e avrai tutta l'informazione che cerchi a portata di mano.